Musica Salve a tutti, sono Mattia per le amiche più intime Matioschi e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto alla puntata 224 di Facce di Nerd la rubrica settimanale in cui parliamo delle ultime notizie dal mondo del cinema, delle serie tv e poi cultura pop, nerd, scatafrunzala oggi episodio speciale per venire a capo di problemi tecnici indipendenti dalla nostra volontà dopo magari vi spiegherò un attimino cosa abbiamo fatto per venirne a capo fondamentalmente un cazzo però abbiamo degli ospiti che staranno con noi il più possibile diamo il benvenuto al signor F, salve ma salve, buonasera signor Matioschi al pubblico, ai miei colleghi ma quindi chi l'ha vinto sto quizzone? perché è proprio de... hai già nominato la parola tabù ma questo, ma è un déjà vu comunque sì, tu pensa che per evitarlo invertiremo gli argomenti però parleremo delle stesse cazzate anche oggi va così, va così salve e poi abbiamo Scream che meraviglia come no? comunque sì tanti problemi tecnici veramente bello lei come abbiamo fatto a venirne a capo? non ne siamo venuti a capo però sembra che una cosa sia cambiata però per il resto dai siamo qui per vedere chi ha vinto e niente, poche... tante cose di cui parlare e poche cose di cui vantarsi ma io sono lo scatafrunzolo della lista sei com'è? tutti si chiedono quali saranno le altre sfighe del 2022 probabilmente i problemi tecnici sì è nella lista è nella lista salve travatarata secondo me è Alada non Alado però lo scopriremo solo vivendo come sta? benissimo allora lo so come avevo risolto i problemi tecnici Mattioschi è andato dal suo microfono e gli ha detto quando il quiz sarà vinto avrai il mio permesso di spagnarti è andato esattamente così comunque il travatarata Alado è un marchio registrato scrivo sì è vero è vero nel preonda stavate cospirando per la conquista del mondo abbiamo quel bell'uomo di Debo salve 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 non pronuncerò nessuna delle parole insomma incriminate comunque sono pronto ad arrivare ultimo in quella cosa lì così per sovvertire i pronostici sì 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 e tutte le scommesse gli exit poll il mio obiettivo era arrivare ultimo Paolo Innocenti che bello essere qua ma grazie vediamo un po' come andrà oggi riusciremo ad arrivare in fondo io spero di sì pronti e quindi un saluto a tutta la chat e andiamo avanti ah e c'è poi Filippo altro quando ma salve salve lo sai che i papaveri sono alti 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 sei nata paperina che cosa ci vuoi fare ma di oschi speriamo di no in realtà non abbiamo fatto niente è banda che non nominavamo da un po' è vero ingelosita perché è lì per tornare e comincia un po' a rompere le palle infatti ci siamo armati di cose scaramantiche non le vedete ma c'è chi tiene incrociate le dita dei piedi chi ha appena finito di dare un tiretto un mozzicone di nazionale che tiene un cassetto e accende soltanto quando gioca la squadra del cuore e tutte le varie perversioni scaramantiche del caso perché proprio non c'è di averle fare allora facevo un bel riassunto sostanzialmente venerdì per chi magari non fosse stato presente sono intervenuti due fattori il primo il mio solito audio solito poi solo in facce di nerd lo fa con velocità rapida per non saperne leggere né scrivere ho cambiato microfono speriamo che fosse quello ma poi come se tutto questo non fosse bastato tutto youtube perché poi ho contattato altri ha deciso di presentare dei problemi tecnici quindi il pubblico non sentiva più nessuno siamo andati avanti 20 minuti parlando per gli affari nostri e allora abbiamo ritenuto opportuno cancellare il flusso temporale e riassestarci capitava anche nel Mattioschi ciò sarà successo una volta no perché poi in sti giorni mi ha scritto gente no come farai secondo me c'è il signore F che ha già percepito un miglioramento qualitativo ma anche la chat speriamo che sia perché io stavo un po' smadonnando con la connessione a dirvi il vero però io sono qui da dicembre non è cambiato niente boh ne verremo a capo tanto la colpa è sempre di Michele Innocenti infatti adesso non c'è proprio così quando arriverà lo cacceremo però siccome oggi l'orario è un po' insolito e siccome magari non tutti gli ospiti rimarranno fino alla fine io direi che giusto così per essere trasgressivi inizieremo direttamente dal main event anche perché è l'argomento incriminato quindi se dobbiamo perire di problemi tecnici facciamolo subito non è che ecco e siccome appunto dobbiamo sperimentare c'è anche il signor Michele olè eccolo lì eccolo lì finita adesso tu c'hai il microfono va un po' a scureggio Michele ecco vedi ho letto e l'abbia l'ha detto ho letto e l'abbia l'ha detto scusate il ritardo ma la domenica il cuore è tutto allo stadio vedi parli ora sì 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 come va salve tutto bene tutto bene secondo me quindi va benissimo oh che bello ma vediamo se vincerà anche il quizzone io andrei a ricominciare domanda per domanda anche perché ci sono tanti spettatori nuovi o meglio che non erano presenti venerdì e comunque la registrazione è andata perduta e poi almeno facciamo tutti gli esperimenti del caso dunque dunque non ci sono tutti concorrenti ma cercheremo comunque di fare il riepilogo anche perché l'eventuale vincitore basandosi un po' sui calcoli dovrebbe essere qui tra noi quest'oggi vi posso dire ciò e dunque la prima domanda chiedeva anche al pubblico perché so che tanti hanno giocato con noi se Batman uccidesse in questo film e qui la risposta è molto immediata no poi c'è chi dice che forse a scena non ha ucciso nessuno esatto diciamo che in maniera manifesta non ha ucciso nessuno ce lo facciamo bastare esatto alza il volume Michele che si sente bassissimo il tuo microfono provo ad alzarlo anch'io aspetta adesso l'ho fatto anch'io nel backstage dovrebbe sentirsi meglio molto bene già c'è un miglioramento dunque sostanzialmente tutti prendono punti tranne Paolo e Filippo che invece tifavano per il Batman omicida dannati loro dannati mettiamo il 5 no come cazzo si fa Maremma Cigliala e con le mani e con le mani forche di carbone esatto che poi vabbè direttamente ufficialmente non uccide però porca miseria quanto picchia come un fabbro eh sì io sentivo i pesi ciascun pugno di questo Batman era pesantissimo proprio mamma mia infortuna gravemente infatti come ho detto nella live precedente questo Batman è il più grande idolo dei produttori di protesi perché con quel rampino ha zoppato non so quanta gente bellissimo verissimo l'ho detto Batman Dobby non vuole uccidere solo mutilare e offrire gravemente esatto la seconda domanda la seconda domanda era già un po' dubbia qui non sapevo bene come sbilanciarmi perché so che alcuni avrebbero dato interpretazioni diverse in sostanza il quesito era uno dei due genitori di Batman sarà un marcione cioè scopriremo che sotto il suo aspetto da buon cittadino in realtà è una persona malvagia ora abbiamo appunto parlottato vado a fare un riassunto ma la domanda non era il plurale tra l'altro Mattia non era i genitori abbiamo chiesto sì che ne bastasse uno dei due ora effettivamente si scopre un dettaglio abbastanza spinoso del passato del buon Thomas però se andiamo a vedere il film quello che ci vuole trasmettere la sceneggiatura è un senso di sollievo quando Alfred dice la verità cioè lo stesso Batman da lì in avanti ritorna sereno perché si sente dire tuo padre non era strozzo era solo un coglione esatto ha fatto un errore e comunque è morto quando voleva andare a denunciare l'H2 e poi dire torna sereno sereno dove che questo però ora come si faccia a denunciare una cosa del genere al cinema non lo so ma magari in questa versione non sono morti al cinema boh portavano il bambino alla stazione di polizia e dicono che sono morti nella stessa settimana di Halloween sai mai che sarebbe figo comunque è un no per noi e quindi prendono tutti i punti tranne il buon Maso che aveva risposto sì che forse per questo non è tra noi quest'oggi terza domanda qui la risposta è molto semplice catuoma nella figlia di Falcone eh direi proprio di sì quindi punti per tutti tranne Deboz che aveva detto no portandosi dietro un codazzo di suoi emuli come il signor F Paolo Innocenti ancora una volta Maso e vabbè la quarta domanda è molto discussa anche nel post c'è chi mi ha scritto ma no ma poi così perdo c'è chi ha giocato in privato a casa ovvero ci sono scene post credit eh sì qualcosina c'è contando che avevi specificato contenuto quindi cioè abbiamo fatto l'esempio del trailer di il trailer di Doctor Strange e quindi con tutta l'ermeneutica insomma viene fuori sì quindi l'odiamo l'odiamo come sì e di conseguenza andando a fare il nostro recap prendono tutti i punti tranne Maso povero Maso hashtag tutti tranne Maso è gli emotivi di questa live tra l'altro possiamo svelarlo spero che ora mi si senta bene ho alzato il volume a palla sì 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 perfetto dicevo dicevo quando abbiamo cancellato la live venerdì abbiamo atteso Guasconi dietro le quinte la fine del caricamento del sito e io con la mia connessione ultra veloce ho scaricato il pacchetto di contenuti mentre Filippo F piangeva e urlava verso il dio delle connessioni sì il problema è che in questi contenuti a meno che qualche espertone di Reddit non abbia già trovato indizi non c'è una benamata minchia quindi abbiamo atteso in vano sarebbe stato divertente scoprirlo in diretta ma ai noi hashtag tutti tranne Maso è bellissimo esatto ora però c'è anche hashtag date un punto a Maso è quando se lo sarà meritato adesso vediamo è già ricevuto uno esatto un'altra ci saranno indizi sulla corte dei gufi no direi proprio di no e quindi un punto a Travatar un punto al signor Michele punti al signor F a Paolo ad altro quando al sottoscritto sostanzialmente in questo caso non si beccano il punto in più Angel Devots scrime Maso quindi Maso ancora a bocca asciutta ma attenzione che Maso adesso ne recupera uno perché la domanda numero 6 era codesta ci saranno collegamenti scusami per la domanda precedente sulla corte dei gufi posso appellarmi al fatto che c'è una cartolina con un gufo sopra e dire e invece era sì quindi ho il punto ho pensato anch'io ma no però dai troppo no no che faccia Scream 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 ci prova ma è una vergogna ma basta è una pagliacciata proseguo ma è una pagliacciata mi oppure questa fortuna della corte dei gufi sarebbe la corte dei gufi più sfigata d'Europa veramente a non stressare personale un po' dubbia esatto ora ora abbiamo poi la sesta domanda ci saranno collegamenti con il Joker di Phoenix qui un bel no e tutti hanno risposto no certo per tutti no ma sempre sull'onda Joker Barry Kjogan sarà Joker qui vince il sì e soltanto tre persone risposero affermativamente ovvero Deboz il signor F e il sottoscritto la sapevamo lunga e infatti esatto solo perché lei ha copiato tutte le mie risposte poi ottava domanda la caratterizzazione dell'enigmista sarà influenzata da Ash qui abbiamo deciso confabulando no no anzi io ho il vaghissimo sospetto che il riferimento presente sia magari l'introduzione futura che porterà il vero e proprio Ash a farsi largo visto ciò che è successo a suo padre il giornalista si chiama Elliot di cognome io mi rimetto alla volontà della maggioranza anche se secondo me l'infanzia di Bruce e quella dell'enigmista si tocchicchiano attraverso i genitori di Bruce e quindi poi c'è scritto Ash grosso così a un certo punto nel film come capito sì però l'idea era proprio diffondere l'enigmista ad Ash accetto volentieri la democrazia in effetti c'è da dire io non so se lo vorrei Ash nel prossimo film perché mi sembrerebbe troppo un enigmista 2.0 sì infatti non so quello è vero però secondo me è un riferimentino ma finisce l'ora io a livello di background non lo trovo non lo trovo simile per niente visto che comunque Elliot era bello ricco e insomma non era un povero disraziato e considerando quello che si scopriva il suo essere orfano non è proprio esatto e oltretutto anche a livello estetico questo enigmista è il killer dello zodiaco fatto e finito più che Ash non ha le bende non c'è una tematica collegata al motivo per cui Ash si benda Ash è molto peculiare non bastano pochi no 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 ovviamente come viene specificato nei commenti in quel caso Ash vuol dire silenzio lo so però però è ovvio riferimento dirò di più nella puntata di venerdì Victor che era un acerrimo sostenitore di questa teoria aveva deciso per il no quindi vince il no l'unica è se lo scocciare non ricorda le bende di Ash però anche lì è proprio tirata vabbè comunque no quindi punto ad Angel a Scrim al signor F a Paolo a Filippo e a Maso attenzione attenzione rendiamoci conto che qui Filippo è riuscito l'unica forse che è diversa dalla mia è riuscito a fare punto ma per caso Deboz cioè non è che era si lo so vergognati dopodiché Poldano è il figlio di Falcone assolutamente no quindi punto ad Angel Deboz Scrim F Paolo altro quando e basta gli altri avevano risposto sì forse per colpa mia ma ecco l'ultima domanda è un po' ambigua e infatti non ho ancora segnato l'ultimo punto perché il quesito era questo Poldano è il solo vero unico enigmista ora a mio avviso sì però è anche vero che alla fine ci sono degli alleati che si vestono come lui però sono gli enigmisti gli enigmisti gli emulatori quelli sono un esercito un braccio armato dell'enigmista accoliti sì io li ho visti per quanto siano accoliti fan li ho visti più come dei sicari piuttosto che come dei suoi pari dei suoi fanatici copicat esatto diciamo per l'enigmista l'enigmista è la mente e loro sono il braccio facciamo che perché non ci sono enigmi da parte di questi personaggi l'enigmista è uno la mente è una è il burattinaio l'enigmista e loro sono i burattini sì 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 vero vero quindi la risposta esatta era sì nel senso che c'è soltanto lui quindi io vado ad aggiornare la classifica un'ultima volta e vi dico chi vince posso dirvi che c'è un vincitore ben delineato che ha sbagliato soltanto una risposta eh sì eh sì eh sì no no allora all'ultimo posto all'ultimo posto abbiamo Maso con tre punti no davvero ma come sì sì tre punti tre punti abbiamo poi con sei punti Travatar e Michele abbiamo una sfilza di sette Deboz Paolo e il sottoscritto visto quindi ci prendiamo la medaglia di bronzo io faccio ricorso su due punti di Paolo Innocenti che ha risposto di no solo perché è una capra dei fumetti mi chiede esatto poi medaglia d'argento ad Angel a Scream e a Filippo altro quando medaglia d'oro con nove punti al signor F è il vincitore signore e signori cioè ne avete due diverse da me ed erano giuste quelle due d'altro canto lui aveva già visto il film mesi fa e quindi era facilitato ma l'altra volta non era bastato nove punti per il signor F grazie che bello che bello mi dispiace Deboz mi dispiace perché ci ho creduto in te fino all'ultimo poi in alcune domande mi sembravano troppo le manchiate la tattica del signor F è stata sto con Deboz finché mi conviene poi lo abbandono una vergogna morale proprio no però ci tengo giusto a specificare che per la la questione riferimenti Ash e la corte dei gufi non ne avevo idea ecco per queste due cose non ne avevo proprio idea infatti ha sbagliato anche fate conto che ha sbagliato Catwoman figlia di Falcone l'ho fatto apposta perché volevo un attimo l'unico errore sì sì lo volevo distanziare ah volevi insomma era l'errore fatto per non darne l'occhio e pensavo fossero di più veramente no 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 però ce l'abbiamo fatta sono contento ciao mamma se c'è una cosa che fa male adesso è mantenere il silenzio questo è tutta è tutto un complotto ordito ai miei danni perché la questione della corte dei gufi la cartolina quella lì è quella che mi avrebbe fatto vincere ma no avete quadri fondatori scrim ci sono i padri fondatori dai mi oppongo e ora cosa mi faccio del discorso che avevo preparato vabbè niente un po' come Michael Keaton che aveva il discorso pronto per la vittoria degli Oscar e poi l'ha rimesso nel tastiera siamo a quei livelli uno dei momenti più tristi è sempre di basta si parla vero vero ora il signor F grazie a questa vittoria si garantisce tanta stima da parte nostra e un chilo di mortadella a casa in omaggio sì e questo è già più più appetitoso scusate e dunque fateci sapere in chat chi ha vinto chi non ha vinto se avete fatto i tornei si dicono nella corte dei gufi e nella famosa versione da quattro ore esatto esatto io voglio la riuscata probabilmente detto ciò vi domando se adesso che siamo liberi di fare spoiler c'è una tematica di cui volete parlare in maniera specifica qualcosina che non vi ha convinto oppure che invece mi ha fatto innamorare vai 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 come ieri sera sono andato a vederlo per la quarta volta eccalala premma cinghiale allora sì ti ho visto mi è venuto un attimino una pulce nell'orecchio c'è forse una bella forzatura o una logica di quelle che la prima volta non ci pensi ma alla quarta fai scena della chiesa arriva la macchina sfonda tutto Bruce si accorge che è l'enigmista ed è lui perché poi c'è un controcampo dalle spalle si vede è sopra prende e se ne va è sopra dopo 30 secondi Colson esce dalla macchina con la bomba e inizia a squillare il telefono con la videochiamata come cacchio fa a iniziare la videochiamata che è sempre in chiesa lui vestito da enigmista è vero che Bruce gli risponde ore dopo però lì o lo sta chiamando qualcun altro ma non regge o la videochiamata con lui in stand by di Batman inizia mentre è sempre in chiesa è una piccola oppure sarebbe stato per strada che stava tornando tra lato allora dovete immaginare vi spiego è giusto è giusto tu vedi tu vedi poldano che se ne va camminando appena passa la colonna comincia a correre lui scappa perché deve però cioè lì alla fine si torna quelle forzature che sono no ovviamente non è che allora il film è brutto no no ci sono anche delle forzature peggiori quello che a me dà più fastidio personalmente al di là di tutto è l'imbeccata che gli dà il poliziotto guarda che mio zio lavora con la moquette perché se non avesse parlato quello lì non si sarebbe risolto esatto era finito a parte che poi la rivelazione in ogni caso è inutile perché le bombe esplodono in un secondo esplodono però quella è l'unica cosa che un pochino mi ha urtato ma si tratta di un colore e anche ripeto stiamo facendo le pulci da un film che adoriamo anche il messaggio in segreteria della morta vero un po' però rivedendolo ho notato che molti l'hanno captato come arrivato dal null in realtà te lo preparano quando Catwoman torna a casa dice non ho il telefono me l'hanno rubato e no gliel'hanno preso gliel'hanno preso per quello cosa quando Catwoman rientra a casa la prima volta non trova più il suo telefono ormai l'ha spedito nel senso lo sanno anche a chi l'hanno spedito no la cosa strana è che non l'abbia distrutto lì esatto però loro dovrebbero anche essere consapevoli viste le chiamate in uscita che chi ha ricevuto quel messaggio in segreteria ovvero chi è Selina giusto? sì sì Selina e questa continua a lavorare nel locale la potrebbero accoppare in qualsiasi momento è troppo gnocca a tira i clienti non possono rischiare eh non so però ti dico ti dico sì sì potrebbero uscire e poi vogliono il problema però per la scena in chiesa però io vi ricordo che il nostro buon villain aveva una bella schiera di fan magari aveva preso accordi con qualcuno e quello che quella sagoma che vede Pattinson per l'appunto potrebbe essere un emulatore c'è un'inquadratura c'è un'inquadratura da dietro è lui è pensato proprio magari queste sono le dinamiche che si trovano praticamente in tutti tutti i film della serie ma sì ne abbiamo parlato che l'assassino un attimo prima ha ammazzato 14 persone dopodiché gira l'angolo e diceva non poteva essere lui perché non aveva il tempo per cambiarsi perché era freddo ovunque in qualsiasi slasher ma anche nei più grandi capolavori quelle forze quando le forzature comunque sono ai fini della trama utili per creare un momento anche narrativamente impattante importante ok è quando sono fino a se stessi che beh ma anche Bruce che vabbè che è palestrato però vai in giro col costume da 25 kg nello zaino dovrebbe avere una maniera è come anche lì una volta te lo mostrano che si colora gli occhi ma tutte le altre cioè se tu dovessi pensare anche nei film precedenti ragazzi se dovessimo giudicare il film da questa parte questo atterra con la tuta l'aria del paracaduto e colpisce con la testa il ponte l'autobus se va in terra ma lì c'è una spiegazione lì c'è una spiegazione lì c'è una spiegazione ovvia lui è dei genitoretto da qualche parte che sono lì e lo proteggono dalle esposioni e dagli schietti dei ponti no volevo chiedervi una cosettina che soprattutto nel prediretta ha tenuto molto banco in chat sta cazzo di fiala che si inietta per superare il trame io adrenalina ho pensato io ho pensato ad adrenalina ma credo che ci sia invece qualcosa ad adrenalina potrebbe siccome è verde verdastro potrebbe essere un appiglio per qualche seguito e farci entrare in qualche strafori in qualche modo diciamo che diciamo che per ora è ufficialmente adrenalina che si presta a essere retconnata in Venom in qualunque momento mettiamola così infatti ma anche la sostanza che spacciavano era strana comunque il drop il drop per esempio io ho capito magari il Venom è troppo misto di adrenalina avete visto all'inizio che c'è quel delinquente con la maschera del drop quello che va a rapinare il negozio nella sequenza iniziale nella scena dopo dei teppisti in metro c'è un manifesto con quel viso con la barra ho detto ma che danno la caccia a lui invece no è il simbolo del drop quindi lui è vestito da drop barra spada droga fondamentalmente non la seconda cremate davanti all'uomo droga allora io devo dire che vedendo la scena non ho pensato minimamente al Venom poi a furia di vedere discussioni in chat ok secondo me la regia non si sofferma troppo sul contenuto intravediamo che è verde ma se avessero voluto fare il riferimento bello diretto credo ce l'avrebbero mostrata in altro modo perché io fino ad ora pensavo ironizzaste su Venom della Marvel c'è quasi il Venom è la pozione che dà la super forza a Bane e infatti hanno molta fantasia però Venom in inglese vuol dire veleno ok ma in realtà Paolo riguarda riguarda Batman e Robin mettono veleno con Venom cioè non è un caso non so quale sia la differenza tra Poison e Venom in inglese ma ci sarà c'è una breve differenza per esempio Poison Poison vuol dire anche intossicazione alimentare credo sia una cosa più fatale diciamo Poison Ivy vuol dire Edera Ivy Velenosa Velenosa questo si ero diventandone dipendente c'era una storia famosa riguardo che si intitolava proprio Venom però a me sembra che in realtà quel passaggio sia ancora di più propedeutico la sua decisione finale di cambiare un po' stile io non faccio il passo più lungo della gamba e dico con certezza che si tratti di un easter egg è che è il momento che cinematograficamente proprio è un pochino più cioè trattato in maniera abbastanza specifica anche la fiala cioè non sembra una fiala medica che ne so tipo l'iniezione di Pulp Fiction che gli fa l'adrenalina del cuore è una siringa è proprio una sorta di fiala cioè l'ingresso quello da chirurgico sembra una tecnologia un pochino più sviluppata ricordiamoci che so due anni che questo combatte che ne sai che non ha combattuto con Venom e si è preso parte della sua tecnologia quando si è reso conto che poteva essere una sua arma poi può finire qui anche cioè senza altro ti lascia la curiosità dal punto di vista però registico comunque dopo aver preso quella cosa là è diventato è impazzito è cominciato a picchiare la sangue quindi quello è vero quello è vero ma il concetto è di avere la giornalina in corpo quindi però se posso perché era terra era terra si rialza e riprende forza però in quel momento diciamo che chi pensa che sia il Venom non è pazzo cioè ci sono tutte le prove comunque non credo che sia forse troppo a caso però mi è piaciuto il modo in cui lui poi si rende conto cioè se non lo fermavano e aver superato il limite questo stava andando poi arriva la consapevolezza io visto che non sono cioè non sono a livello nerd quanto alcuni qua io l'ho visto una volta sola però io ricordo quella volta che l'ho visto c'era rimasto un po' così secondo me non è proprio adrenalina per un semplice fatto era stato suonato come un tamburo era ridotto malissimo si inietta sta cosa c'è un'esplosione di energia e di aggressività per la quale se non lo fermavano in tempo finiva male il punto è che non era finita lì cioè io mi aspettavo che avesse un'esplosione e poi si dovesse trascinare fuori dalla scena per andare alla scena animalesca e invece la questione continua lui continua a fare cose fino alla fine nel senso che non è solo una botta d'energia che gli serve in quel momento è qualcosa che in qualche modo sembra gli faccia passare il dolore per un lunghissimo tempo sì vero è anche che questo Batman è una plot armor abbastanza di ferro quindi secondo me in ogni caso è vero anche che questa non è solo plot armor in questi casi nei casi dei film di supereroi ma proprio una modalità che scatta da un atto all'altro come se per dire superi il livello e non hai bisogno di prenderti il medikit me lo stai saluto e ti viene automaticamente ripristinato il videogioco esatto è tornata la barra piena ricordate il Daredevil con Ben Affleck che inizia con lui ferito perché è stato affettato da Electra che dice che sto morendo me la sto cogliendo vedo la vita passarmi dopo davanti dopodiché quando se li metti in sesto e sconfigge chi ricordiamo ricordiamo il No Way Home Tobey Maguire pugnalato sì ma tutti abbiamo già pugnalato sto bene sto bene esatto no io volevo dire due cose veloci veloci uno è un argomento che avevamo trattato venerdì ma dobbiamo tornarci perché io vedo che continuano nei commenti lecito a voler per forza che il figlio del sindaco diventi Robin allora io capisco che siamo nell'epoca dei franchise che lanciano elementi sempre e comunque per farli diventare qualcos'altro ma è semplice ragazzi poi fermiamoci anche a livello narrativo dei film quello è un bambino che rimane orfano durante un crimine esattamente come Bruce e Bruce lo prende come punto di riferimento e motivazione per seguire questo caso e cercare di rendergli giustizia io invece ho subito pensato a Robin ma tu sei pazzo Paolo ma no perché quando il film inicchie lo vedi combattere lì che viene spiato col cannocchiale io ho pensato a Redwood io ho pensato ho detto no ma c'è Redwood in questo film io Redwood non so chi sia ma quando però poi si vede quel faccia a faccia tra Bruce Wayne e il bambino ho detto caspita questo me lo fanno fa vedere che combattono chi dice che in futuro non possa diventare Robin perché perché sei Paolo quello è perché sei fan della scuola di Snyder solo per io mi limito io mi limito a dire due cose la prima in un film che comunque pur nella rilettura è molto fedele al personaggio trovare un Robin ex novo mi farebbe un po' strano ma non penso sia così e io penso più che altro che sin dall'inizio quando ti erano a vedere il bambino visto da lontano ti vogliono spingere a pensare che quello sia Bruce Wayne anche secondo me e quindi il meccanismo è quello dell'identificazione tra l'altro non siamo arrivati a dirlo la volta scorsa e nemmeno quando non facevamo spoiler questo forse è il primo film su Batman con Batman in cui non viene mostrata l'omicidio dei genitori l'omicidio dei coniugi Wayne vero lo aspettavo non c'è stato viene raccontato come fatto a voce ma non c'è c'è soltanto questo aspetto quindi c'è il discorso dell'identificazione con questo bambino secondo me non c'è tra l'altro Chris l'ha confermato anche in un'intervista che ho visto su Youtube gliel'hanno proprio chiesto e ha detto di no quindi ho qualsiasi poi va bene che possono far tutto per carità ma dopo aver visto questo film vi immaginate il prossimo arriverà tra due tre anni credo tre vai tre dai Massimo ok quindi questo ragazzino non è che a meno che non ci sia uno skip narrativo interno non è che crescerà più di tanto voi ce lo vedete a fianco a Batman a pestare la gente per strada francamente l'attacco dei coni Mattia appunto io vi dirò di più io questo Batman lo voglio da solo la solitudine di questo Batman è uno dei suoi punti di forza dal punto di vista anche secondo me io la butto lì io per strada ovviamente a pestare non ce lo vedrei però io ce lo vedrei ancora a bambino a casa Wayne perché è orfano e tutto adottato però la madre c'è la mamma esatto la mamma c'è a posto che anche Tim Drake aveva il padre fino a un certo punto però l'unico ruolo in cui vedrei un ragazzo è supporto tecnico dalla Bat Caverna però c'è già Alfred sì però vedi è una buona sarebbe anche un discreto compromesso un Robin diciamo supporto informatico sì non è male sì ma un Robin però quel punto allora forse che ci sarebbe sicuramente poi in una situazione in cui si trova con le spalle al muro e deve combattere per salvarsi la vita aggiungo altre lo segue in tutto altra cosa a me sembra un Batman Batman parato sotto tutti gli aspetti ovvero nella Bat Caverna Alfred con Gordon ha un rapporto alla Bat Di Movie che non si è mai visto in tutte le altre reinterpretazioni quindi se vuole un alleato chiama Gordon c'è persino Catwoman per cose un attimino più avventurose ed estreme che tanto torna c'è il mitico Martinez Catwoman torna magari alla fine del secondo film ma ritorna ragazzi sicuramente anche perché è andata a Bloodhaven che per chi non lo sapesse è una città messa anche peggio di Gotham nei fumetti c'è proprio la merda delle merde e dove va Nightwing se non sbaglio assolutamente sì Nightwing è il protettore di Bloodhaven più che altro se vogliamo il supporto tecnico se vogliamo il supporto tecnico oracolo visto che abbiamo già un film su Batgirl qui magari saltiamo in avanti chi lo sa però qua non c'è il minimo riferimento alla famiglia di Gordon neanche da lontano non lo so magari nel prossimo film potrebbe potrebbe anche solo dire che ha una figlia perché io non penso che ma poi scusatemi in alcune versioni lei è figlia adottiva Gordon in realtà è tipo suo zio ma la cresce come una figlia quindi può essere che lei arrivi a Gotham ha cambiato parentela con Gordon 3000 volte Barbara con la versione di Annore e lei nipote di Alfred per la questione Robin penso a un'introduzione di Robin o forse addirittura di Grayson direttamente nel secondo film sto pensando che effettivamente Robin potremmo averne quattro tra Titans Gotham Knights tu dici in contemporanea Batgirl se c'è e questo Batman neanch'io io non lo vorrei questo Batman credo che trovi nella solitudine proprio la sua dimensione perfetta ma soprattutto alla fine di questo film ha già tanti rapporti da ricucire infatti infatti in parte quello con Alfred che deve tornare attivo hanno fatto la pace ma comunque c'è stata una rottura quello con Selina quello con fondamentalmente la città e qui mi collego qualcuno nei commenti ha scritto siamo tutti d'accordo che alla fine l'enigmista ha vinto no secondo me perché ok ha messo sott'acqua Gotham quindi diciamo il suo piano ha avuto successo ma le conseguenze dell'attentato e del casino naturalistico sono quelle di rendere Batman ancora più paladino di Gotham e la città ancora più unita quindi se da una parte ha avuto quello che voleva la morte di Falcone e il disastro il domani col crimine sempre da combattere vedi il pinguino che guarda all'orizzonte le opportunità sembra più rosio all'inizio di questo film la città è un covo di criminali che comandano la città qui sembra che si sia risvegliato un senso civico e di unità proprio a causa del suo piano quindi secondo me no calma questo è il lato positivo però in realtà ha ottenuto ben più cioè voleva tante altre cose ha ottenuto quasi tutto voleva che la gente sapesse di certi magheggi che ha pubblicato sono d'accordo Scream però io ripeto il suo piano ha avuto totale successo ma le conseguenze dello stesso sono agli antipodi di quello che lui voleva anche perché nella scena finale è lì disperato che sta piangendo è bellissimo il concetto che inizialmente l'acqua che devasta Gotham doveva essere sinonimo di distruzione ed invece con l'intervento di Batman diventa anche un'acqua purificatrice del marcio di Gotham quindi beh è anche significativo quel finale poi senz'altro l'enigmista è riuscito a far dei danni però sapendo che davanti a sé ha ancora una figura che sempre 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 gli darà la caccia a qualsiasi cosa ma poi il più grande fallimento il più grande fallimento è proprio Batman nel senso che quando lui gli dice sei uno psicopatico lui ma no dovevamo stare qui insieme a ridere a sorseggiare una birra a abbiacarci ma è molto bella è molto bella anche la scena quando porta fuori Falcone e trova Gordon e dice sì con i poliziotti appunto che non sono ancora quello è molto bello esatto tutti d'accordo che bella reale Mephisto assolutamente ma io ma io ero convinto che ci fosse il twist e che lei fosse una merdona perché inquadravano troppo spesso le locandine i poster la notizia al TG invece ecco senz'altro si può dire vai Travatar poi prossimo film corta dei gufi lei quello che volevo dire io è che nonostante si veda poi questo famoso Joker che era alla fine per pochi secondi questo film sarebbe stato bellissimo anche senza un collegamento ad un villain futuro cioè non è la classica pellicola in cui tu vedi spuntare quello che sarà il prossimo villain e dici wow questa scena fa alzare l'asticella del gradimento no il film era già di per sé compatto è quasi autoconclusivo quella scena mi fa piacere però non è tra l'altro è a quello che serve quella scena Paolo Paolo è proprio per quel motivo oh dobbiamo dirla la verità io non avevo voglia di un altro Joker completamente anch'io ma è proprio è proprio la riuscita del film che quando ho visto Barry Keoghan mi sono elettrizzato a parte che la scena è fumetto sembrava uscire dalla serie animata infatti non volevo criticare la scena era solo per dire esatto per farti capire quanto Reeves abbia la mia fiducia ormai totale già l'aveva però così totale perché ora voglio pure Joker cioè io non lo volevo non lo volevo cazzo io ripeto quello che ho detto nella live che è stata cancellata e cioè che la cosa a me ha dato non dico fastidio ma mi è risultata pleonastica per il semplice fatto che ripete in un certo senso l'effetto gancio del finale di Batman The Kids che poi in un certo senso è il finale di Batman The Year 1 certo ma questo io l'avrei francamente evitato che poi il Joker lo tirino fuori o l'avrebbero tirato fuori comunque se il film aveva successo e diventava un franchising questo ce lo dovevamo cuccare in ogni caso perché Batman senza Joker un Joker da qualche parte chi è che ti fa due tre film di Batman senza mettere in qualche modo il Joker è molto difficile forse Filippo può anche darsi che nel secondo non sia nemmeno il villain principale perché comunque io il Joker lo vedo anche come un burattinaio che con l'alleanza dell'enigmista possa creare è proprio una banda ho pensato pure io io ho pensato qualche cosa che prenda un grosso modo da Arkham Asylum cioè una storia su due binari c'è una rivolta all'interno del manicomio criminale capeggiata da Joker e parallelamente visto che se il Joker si trova lì esiste è noto alla polizia probabilmente Batman l'ho già affrontato è una storia retrospettiva flashback frammentata che ti va mostrando il loro primo incontro ma infatti la cosa secondo me più affascinante la cosa più affascinante non è tanto prendere gli stilemi della post credit che ti vanno a introdurre il cattivo del prossimo film ma proprio il fatto che i villain comincino a conoscersi cioè nell'universo di Batman il fatto che si conoscano poi magari Joker non sarà presentato come villain in questo film magari nel terzo chiudendo la trilogia però c'è solo il fatto che Edward ha un amico gli fa l'indovinello ma io lì stavo volando anche io porca vacca però a questo punto a questo punto voglio una scena come se stavano animati in cui giocano a carte e decidono chi l'ha ucciso chi ci ha andato più vicino ad accopparlo io ho tirato addosso un vero e mosso non sarebbe stata meglio però se quella scena uguale uguale però che non si vedeva in faccia il detenuto della cella accanto si sentiva solo la voce Filippo posso dirti che c'è chi non ha capito neppure che quello sia Joker quindi l'ho fatto bene a farlo vedere un minimo perché c'è gente che è convinta che si ha due facce ad esempio dice pagliaccio e così ride ride e diamo il merito a Reeves sarebbe più divertente se senti solo la voce e diamo un merito a Reeves non lo lascia immaginare no ma il merito di Reeves è proprio che lui ha ridotto le easter egg ai minimi termini perché un'altra scena più corposa di Joker c'era Batman andava ad Arkham proprio a chiedere informazioni sul modus operandi dell'enigmista questa scena Reeves l'ha mostrata questa scena Reeves l'ha mostrata negli screening e poi invece ha preferito non gettare la questione tutta basata sul fanservice perché dice ma alla fine se io posso creare un film che si reggeva sulle sue gambe non è meglio invece la ciliegina e alla fine devo dirvi la verità si c'è lui messo così ci sono proprio i leak però non lo so secondo me va bene così ma quindi in una scena si vedeva meglio anche il suo aspetto si 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 dove avevano un tet a tet sicuramente la scena verrà divulgata come contenitore un contenuto extra un video già la gente parla di cat basta però non penso è che facciano vedere joker in un contenuto extra se lo terranno per il secondo film non c'è già l'immagine che hanno diffuso però è l'icata si 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 è l'icata però vediamo Reeves ha detto che vorrebbe divulgarla vorrebbe farla vedere una domanda che mi pongo avendo amato anche ogni deriva finceriana lo so che è presto per pensarlo però se nel secondo film Reeves si soffermi ancora su queste derive oppure se inserisca proprio un'altra visione che si distacchi da David Fincher da Seven da Zodiac che è prestissimo però sono curioso perché per il primo film la scena ad Arkham con l'enigmista Joker ha in senso positivo un tono completamente diverso dal resto del film e secondo me attraverso le serie spin-off che magari usciranno prima del secondo film un ampliamento della dimensione fumettistica di quella Gotham che ricordiamolo l'abbiamo detto è realistica ma è anche molto più fumettosa di quello che potrebbe sembrare a una prima occhiata io me l'aspetto soprattutto se diventerà un thriller di unione di cattivi per me si arriverà lì dicevo io vado a ipotizzare secondo me il più grosso villain di questo Batman in realtà un po' l'abbiamo già visto ma deve ancora venire fuori perché abbiamo visto solo un inizio cioè è una persona sola concentrata esclusivamente sulla sua doppia identità e va trascurando la sua vita reale cioè non c'è Bruce Wayne c'è Batman secondo me il più grosso nemico è se stesso e non vorrei che questa trilogia in realtà fosse un Bruce Wayne che sprofonda sempre più in questa rispettazione perdendo qualsiasi cosa insomma si vede chiaramente che è un personaggio che deve trovare un equilibrio in questa vita veramente difficile e per questa ragione credo che i villain in realtà saranno un po' come l'enigmista vengono approfonditi quel tanto che basta ma non più di tot nel senso ci saranno dei problemi da affrontare ma il più grosso sarà sempre se stesso e ne verrà fuori magari nel terzo capitolo della trilogia riuscendo un attimino a capire come camparci in questo modo capendo cosa è importante e cosa lo è meno e lì nasce il Batman poi quello così secondo cioè ipotesi è tutto però è molto no forse questa cosa l'avevo anche detta venerdì non mi ricordo più poi ho parlato del film già 300 volte ma io mi aspetto una situazione andando avanti con non un cattivo principale in ogni film ma magari un roster abbastanza ampio con Batman che deve capire chi è il colpevole di turno tipo veramente lungo Halloween quindi non mi stupirebbe neanche vedere alcuni cattivi rinchiusi ad Arkham ma comunque con un ruolo attivo altri a piede libero in fin dei conti questo film ci ha dato il pinguino è ancora tutto da vedere quello che farà e non credo lo esauriranno nella sua serie tv Catwoman ancora in circolazione il gioco e l'enigmista si stanno alleando c'è un riferimento ad Ash che possono sviluppare come no quella famigerata c'è un procuratore da sostituire e dicono fanno il nome di Maroni 300 volte e per chi non lo sapesse Maroni è quello che sfigura due facce possono fare quello che vogliono io spero veramente che non levino questa componente investigativa che secondo alcuni non è riuscita secondo me sì io voglio sempre questa impostazione non può diventare il cinecomic tipico con lui contro i sinistri 6 anche perché è ancora più bella questa impostazione se poi tu pensi a quello che c'è stato prima perché ora senza tenere in considerazione Schumacher o Snyder che possono piacere o no però se già pensi a dei maestri come Barton come abbiano trattato la materia e poi pensiamo a Nolan come abbia trattato la materia è molto interessante vedere che la stessa storia venga trattata in molti modi diversi ad esempio prima Scream parlava di un Bruce Wayne che è praticamente la maschera di Batman come se Batman fosse il vero protagonista quindi anch'io vorrei che si continuasse così e che non si andasse incontro al cinefumetto spettacolarizzato di continuo esplosioni bomba a mano insomma quello no vorrei che ci fosse sempre questa componente investigativa perché anche per me che non la conoscevo non leggendo fumetti beh devo dire che mi abbia lasciato proprio incuriosito io intanto saluto Deboz che deve andare ciao Deboz ci vediamo presto ci vediamo grazie per aver consegnato la medaglia o la cintura comunque sì non mi dispiacerebbe proprio una dinamica appunto all'Arkham City cioè Batman che si occupa di un caso e va all'iceberg lounge va da quella là va dall'altro va dall'altro ancora e tu lì i cattivi glieli puoi mettere tutti non per forza un cattivo principale basta ma proprio un universo perché alla fine io credo che uno degli intenti di Reeves sia proprio presentare un universo Batman calato nel suo habitat e qui io vi chiedo appunto e c'è proprio un cambio generazionale quasi nel film cioè il pinguino che prende il posto di Falcone la città che viene inondata e che quindi deve rinascere dalla decadenza ma non potrebbe essere una strada poi magari non è così che si apre a persone un po' più freak dato che appunto quella scena tra l'enigmista e il Joker dà una sensazione di voler andare proprio a parare su un futuro che mixa più cose insieme non vi dico che automaticamente ci spunta Clayface no no però io ho avuto anche il sospetto alla prima visione no ma è arrivato alla terza che possano fare un secondo film in stile terra di nessuno con la città divisa con il pinguino che si prende la fetta attorno all'iceberg lounge e qualcun altro un maschera nera vero che se lo sono giocati malissimo con un McGregor in Birds of Prey mamma mia però magari però anche questo film ripresca tutti i cattivi giavisti cattuoman falcone non ci sono cattivi nedi quindi è vero è vero è vero io me l'aspetterei perché vabbè ci sarà sicuramente uno skip temporale però mi dispiacerebbe un pochino vedere il secondo film che inizia con la situazione risolta tutto a posto sì sì abbiamo ricostruito secondo voi visto che c'è questo Joker prima o poi ci sarà un'ipotetica nuova Harley Quinn nel franchise spero di no io non ci parlerei no neanch'io 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 allora va bene riproporre i grandi classici ma secondo me alcuni non li utilizzeranno per evitare troppa sovrapposizione ad esempio Firefly sarà il cattivo di Batgirl non credo ne mettono un altro subito dopo doveva esserci già in questo film Firefly l'hanno proprio depennato per passarlo di là secondo me però anche lì cioè Joker non doveva comparire per la questione c'è appena stato Phoenix quello è vero però sai Joker e Joker Harley Quinn Margot Robbie ha fatto un successo incredibile almeno a livello poi magari film no ma lei a livello iconografico sì a meno che non ti mettano una un Harley Quinn ancora psichiatra che lavora all'Arkham Asylum la dottoressa Quinzel e tu sai che poi potrebbe succedere o potrebbe essere quella che l'aiuta aiuta un certo personaggio a scappare vero 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 e poi hanno fatto era un rumor senza fondamento però hanno fatto il nome di Agna Taylor Joy fatelo realmente io sarei contentissimo ci starebbe un sacco in effetti in effetti sì sì mi piace mi sono parlando di Barry Keoghan se pensate che non si è rato a fare Joker guardate il sacrificio del servo sacro che oltre a essere un film della Madonna Annati mostra che è uno psicopatico perfetto ma infatti ma infatti non è un caso che abbiano scusatemi mi dissocio sul film della Madonna grazie è un grandissimo film ma voi siete grazie assolutamente sì no ma comunque uno dei motivi principali io credo che per lo stop e anche il rinominare la serie sul commissariato direttamente Arkham adesso l'hanno stoppata credo sia proprio che stanno delineando quello che sarà il futuro di questa serie capire effettivamente cosa potrebbero introdurre e cosa no e come vuole evolversi tutta l'universo ragazzuoli se rispondo un attimo alla chat poi sentiamo la domanda il film di Batgirl non c'entra niente con questo Batman anzi è collegato a quello di Keaton ma allo stesso tempo c'è il commissario della Justice League di Snyder non si capisce un cazzo semplicemente nel mondo del Batman di Keaton che non dovrebbe essere quello di Barton c'è un tizio che ha le stesse sembianze quindi è una variante è una variante praticamente sì perché quello è un flashback quindi tutto molto interessante quanto materiale per le prossime puntate Mattia dai no no per parlarne qui sì ma io dopo aver visto sto film di Keaton Affleck e tutta la loro compagnia non me ne può fregare e invece a me interessa ancora tanto me ne frega proprio un cazzo mi sembra tornare tornare indietro tornare indietro c'è andato una roba bella indietro quanto fa ridere la notizia del cavo della Warner che fa è da oggi assumeremo solo bravi registi a cui daremo totale libertà domanda sono scemi e se ne sono accorti o hanno capito di aver assunto tanti scemi in passato posso dire che è la cosa più offensiva che potessero dire sì infatti cioè io dico è una roba allucinante che cavolo di uscita è perché o stai dicendo che sei scemo te i tuoi colleghi o stai dicendo che hai assunto scemi che è anche vero in parte per l'amor di Dio no ma è un'ennesima besciata fuori dal vaso è un'uscita di una bassezza incredibile cioè è una roba allucinante ma davvero no perché è bello che no ma guardate quando è uscita quella dichiarazione io ho pensato al meme degli Spider-Man però con i registi tutti del DC che fanno così per dire chi è che ha fatto quello scemo però indicano tutti lo stesso però indicano tutti lo stesso ma a proposito di registi io vi proporrei una notiziola avevamo parlato del trailer di Obi-Wan ma fondamentalmente non è che avessimo cavato che bellissimo papaparaba dalle rape esatto e invece invece è arrivata questa notiziola se non sbaglio venerdì sera sul tardi Alice in Levi esattamente e ho notato che in pochi ne stanno parlando e invece è una notizia che porta secondo me a porsi tante domande il regista di Deadpool 3 sarà Sean Levi chi è costui perché magari non tutti lo sanno posto che aveva già diretto film per tutta la famiglia come una notte al museo ma recentemente si è legato in maniera molto stretta Ryan Reynolds dirigendo prima Frigai e poi il recentissimo The Adam Project che trovate su Netflix questo è il titolo come si pronuncia che non ho ancora visto consigliato sembra essere molto carino quindi perché secondo me è una notizia che porta a degli interrogativi sono stati confermati gli sceneggiatori dei film precedenti di Deadpool attenzione però questo è un regista per tutta la famiglia ragazzi e anche tra i registi fissi di Stranger Things anzi forse il regista più significativo della serie diciamo che è il creatore però magari il pilota è suo ma credo sia tutta la serie scritta ci sono degli episodi diretti dai fratelli Duffer almeno sei episodi li ha diretti tutti lui è il produttore sicuramente è una persona che finora ha fatto pellicole io non sono preoccupato per niente perché in qualche conto sono gli sceneggiatori per l'appunto la storia poi è vero che il regista mette poi è vero che il regista mette in scena la sua visione però ricordiamo Ryan Reynolds ha tanta carta bianca cioè ha tanta voce in capitolo il personaggio è proprio suo e secondo me lo ascolterà spesso non si terrà a freno con le volgarità secondo me non c'è da preoccuparsi ci sono fior di registi che sono passati da film per tutta la famiglia e poi sono andati verso film più per adulti quindi Sean Levy visto che comunque c'è questo bel rapporto con Ryan Reynolds potrebbe davvero dar vita ad uno dei capitoli più divertenti del franchise secondo me anche perché proporre qualcosa di diverso dai due predecessori che sono piaciuti tanto sarebbe un suicidio cioè sono andati bene la gente vuole vedere quello no no facciamo qualcosa di più family friendly ma perché la gente vuole vedere quello fai quello e adesso ti spiego ti spiego il perché innanzitutto c'era un commento interessante a cui rispondo sì un po' di tempo fa erano associati altri sceneggiatori al progetto ovvero due autori della serie animata Bob's Burger sono stati a quanto pare silurati e ritornano gli sceneggiatori dei due film precedenti Red Rees e Paul Wernick ritornano cosa è successo non si sa io Sean Levy allora è un regista che mi sta molto simpatico poi secondo me i suoi titoli più famosi sono anche più mediocchi io scusatemi qui faccio mia colpa magari se qualcuno è affezionato ho sempre detestato le notti al museo proprio non l'ho mai sopportato carini carini no il primo mi piace ma almeno il primo ognuno c'è un problema non è che ti è piaciuto anche Ghostbusters io ti interoverò però ho fatto almeno due film che mi fanno stare tranquillo Real Steel anche a dire Real Steel che per me è un gioiello dimenticatissimo e che non ha avuto un decimo del successo che meritava che è veramente una chicca di film e l'ultimo Free Guy dove ha dimostrato secondo me che quel tipo di comicità pop anche un po' autoreferenziale gli viene bene poi è chiaro come si stava dicendo poco fa che non dipenderà da lui la quantità di volgarità e violenza nel film ma dai piani alti lì se sono intelligenti fanno quello che devono fare vanno avanti secondo e io non sono neanche il più grande appassionato di Deadpool del mondo mi ci diverto ma così anche io però per rispondere perché dovrebbero farlo per famiglie e perché alcuni lo vorrebbero a tutti i costi nel Marvel Cinematic Universe e se lo ficchi lì vi riporto questa notiziola perché quando parlo della Disney che deve rispettare un certo target mi viene detto ma va ma figurati anzi è giusto che si espandano in America hanno arriveranno anche da noi suppongo pubblicato su Disney Plus le serie Marvel Netflix quindi Daredevil Punisher eccetera con un parental control anche noi ce l'abbiamo con Star i bambini in teoria non possono accedere a Star sono già arrivate le diffide da parte di associazioni di genitori che hanno spramente criticato la scelta dicendo che quello Disney è un brand per famiglie questa cosa genera confusione nel pubblico non dovrebbero farlo bla 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 ora ovviamente se ne laveranno il sedere però sappiate che si tratta di una forma mentis ben precisa quindi non credo che nel Marvel Cinematic Universe vedremo pellicole vietate mai nella vita ma mai ma questo è arrivato ora per la serie Marvel Netflix non per i vari Alien infatti stavo per dire in America in America non sono su Disney Plus sono nettamente separati sono su un'altra piattaforma che si chiama Hulu non ci sono su Disney Plus la prima eccezione sono le serie Marvel Netflix però separate dal parental control che poi è la prima eccezione sì sì però vabbè c'era Jessica Jones faceva delle discrete paolo no costruiva i letti dell'Ikea esatto però è vero che i registi sono sempre quelli ma a me questo regista fa pensare che abbasseranno il target non so posso dire una cosa un mese fa un mese fa ero convinto al 100% che Deadpool fosse stronzo e rete d'ar dopo un mese è cambiato qualcosa non solo per quanto riguarda la diffida che ti dico Deadpool è stronzo basta senza la questione rete d'ar ci sono hanno anche cambiato hanno anche cambiato gli sceneggiatori lo ricordiamo quindi il progetto è mutato in corso d'opera questo è sicuro sì una pulce nell'orecchio e poi e poi Reynolds si riferisce al film come la trilogia con Levi perché erano Free Guy erano The Adam Project e Deadpool 3 la trilogia io non lo so dico guardate giusto per farsi altre domande questo simpatico regista qualche giorno fa ha detto una cosa sapete che sui social da anni c'è questa faida finta tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman con un sacco di strizzatine d'occhio vicendevoli e il buon Sean Levi Levi come si pronuncia Levi secondo me ho sentito anche gli americani pronunciarlo così ha detto che lui ha intenzione di far collaborare questi due attori e farà di tutto per farli collaborare ora il suo prossimo progetto è questo qui vai la butto la bomba non me ne frega niente c'è Hugh Jackman in Doctor Strange Multiversal Madness c'è Deadpool e poi li vediamo tutti in Deadpool 3 basta mi sono finalmente liberato farà di tutto non è detto che ci riuscirà allora vero però la dichiarazione è arrivata prima di questo annuncio arrivata prima certo adesso rileggendola così a breve distanza ma non è che poi magari un cameino stupidissimo passa Wolver in un secondo gli da un graffio post credit però 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 qui gatta cicova qui gatta cicova anche secondo me anche secondo me gatta cicova però a voi piacerebbe vedere magari non sarà così ma un Deadpool più family friendly quindi senza troppe parolacce senza riferimenti sessuali non sarebbe Deadpool sarebbe come vedere un porno con vestiti ma non so neanche tanto le parolacce riferimenti sessuali e il fatto che si fa in testa all'avversario mentre Colosso gli sta facendo il bippone sull'edita dell'eroe io dico la mia io dico la mia è chiaro che il 70% del successo di Deadpool è dovuto a questo questo utilizzo estremo della volgarità e della violenza è chiaro però siccome qualche settimana fa ne parlavamo questa ossessione di 20-30 anni sulle parolacce e la violenza per forza lo stesso personaggio nei fumetti è stato trattato da autori diversi in declinazioni diverse può anche essere un Deadpool parzialmente più per tutti ma che mantiene in sottigliezza lo stesso tipo di cinismo e di cattiveria diciamo che per essere un film che apprezzo di Deadpool non deve essere per forza con questi anche perché ripeto sono bellini due film di Deadpool ma sono due barzellette lunghe due ore che dopo un po' stancano sinceramente io però ti dico questa cosa io sono assolutamente d'accordo mi fanno abbastanza ridere quelli che no il film deve essere vietato perché così è bello no non sono di quest'idea però pensare c'è la forza dei due film risiede anche in certe battute che altri non possono fare è chiaro è chiaro che però dovrebbero fare un lavoro di reinventare il personaggio in maniera che non faccia troppo ripiaggio è chiaro che se vanno e non c'è quel tipo di complicità in tanti restano delusi però è sempre il solito problema non per questo non sarà di qualità però Michele ti dico io capisco il tuo discorso però allora vai avanti con un reboot cioè se io guardo un terzo capitolo e il personaggio nei primi due me l'hanno presentato in un certo modo fa un po' strano che nel terzo venga così edulcorato poi lo sai a me della fedeltà non importa niente ma almeno con i film precedenti sì perché se no ragazzi ma Deadpool è metà cinematografico basta fare cinque minuti di introduzione su come è costretto a seguire le nuove regole del gioco imposti da quelli stronzi della Disney mi è anche venuta una bella idea variante variante no il punto è questo è probabile che non sia una variante allora ovviamente io non so niente sul film ma faccio già due ipotesi la prima non si chiamerà Deadpool 3 si chiamerà Deadpool questo accendo per c'è due non ci saranno i comprimari dei film precedenti manco uno poi ti dico Matioschi ti dico ci sono i casi cinematografici anche nella Marvel in cui il personaggio è stato totalmente cambiato l'ho apprezzato quindi io mi fido di Sean Levy perché se penso anche ad un Logan chi se l'aspettava di vederlo così violento dopo che nei film precedenti l'avevamo visto o che piaccia uno Thor che diventa Thor Ragnarok un cazzone ecco il titolo The Deadpool sarebbe geniale spero che si chiami così lo dico veramente sarebbe proprio l'anima del personaggio chiamatelo The Deadpool vi prego può anche darsi che a me non piacciono le decorazioni ma poi vedo un bel film fatto da Sean Levy e dico chi se ne frega come ho detto con Thor e Logan in realtà è che secondo me la bellezza di Deadpool non sta nella volgarità gratuita e basta come ha detto anche Filippo è proprio nella scorrettezza e nella violenza cioè l'ha detto spara a tradimento in testa al cattivo mentre lì c'è qualcuno che gli sta dicendo no il bene il male cioè non è il punto di forza di Deadpool non è che mentre spara con due mitragliette fa si è anche quello ma il fatto è che sta sparando un orfanatrofio cioè è quello è tutto l'insieme non puoi togliere una cosa o l'altra però già nel secondo e a me aveva convinto poco faceva il discorso al bambino non si fa e non è che poi Deadpool lo uccideva al suo opposto per togliere la soddisfazione stava lì così infatti già a me Deadpool 2 cominciava un po' a puzzare si già Deadpool 2 era un pochino edulcorato rispetto al primo questo è vero questo è vero poi fecero il once upon a time fecero senza veramente edulcorato scusate però anche nel 2 cioè la scena quando va dalla tizia dalla non vedente che nel primo film ha detto oh ti ho nascosto dei soldi un po' di coca una pistola e poi si scopre nel 2 che è vero basta a me basta quello ragazzi ma poi ricordiamoci Simpson i Simpson all'epoca d'oro non c'era bisogno di mostrare o sbudellamenti o giochi erotici particolarmente elaborati o confusione dei ruoli all'interno di un rapporto che non si capisce più se è queer etero o quello che è ma in ogni caso i Simpson almeno finché è stata gloria erano i Simpson avevano la loro carica di riverenza all'interno di una certa cornice facevano satire in qualche modo quindi restando anche a quei livelli dei Simpson docchi poi Griffin anche all'inizio e alla fine leggo tutti i fumetti di Deadpool sono sempre stati vietati vero? no che io sappia non li hanno mai vietati punto e poi ho visto questo gusto personale appellarsi al vabbè ma basta che nei primi 20 minuti spiega sì però per il pubblico generalista non so se sarebbe una gag funzionale ragazzi cioè la Disney mi ha messo sì ok però poi il film te lo devi cioè non è che può andare avanti tutto il film sta roba la parolaccia biffata come gag ti funziona nei primi 5 minuti dopo un po' il primo iniziava che io ho dovuto leccare il culo per avere un film tutto a mio una cosa del genere sì 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 però poi c'era una trama seguibile cioè non credo potrebbero andare avanti ancora anni a fare no non posso dire la parolaccia prima della Disney ok che palle però a un certo punto allora c'era una c'era una cosa simile in uno dei film con l'ispettore Monnezzo non ricordo bene qual era però lui aveva fatto voto di non dire più parolacce e continua per tutto il film a fare questa gag ogni qualvolta gli scappa una parolaccia c'è la chiamata della moglie fa no e poi si corregge tipo volevo dire le palle degli occhi o cose del genere sì carina ma poi stanca presto ho fatto un esempio idiota però ben si collega non lo so poi magari ci stiamo facendo problemi inutili sarà rete d'arte ma l'importante è che sia un bel film poi è ovvio che soggettivamente mi dispiacerebbe poi però magari chi lo sa ma è vero ma sì diciamo che diciamo che tutto dipende da come Reynolds effettivamente concepisce il personaggio perché alcune voci di corridoio dicevano che lui aveva avuto un meeting proprio con Feige dicendogli che lui voleva essere coinvolto non solo nel progetto Deadpool ma in qualche semmai avessero voluto inserire Deadpool in qualche film lui doveva essere coinvolto nella scrittura del personaggio e di solito un attore nell'MCU non lo fa questo quindi è proprio coinvolto a piene mani ora stiamo a vedere se nel caso di una svolta più family friendly lui è d'accordo oppure no può darsi che lui può essere anche d'accordo nel dire sai rendiamolo un po' più mainstream poi sarebbe bello che noi ci facciamo tutti questi pipponi e il film di Sean Levy sarà il più volgare il più cattivo sì sì proprio comunque è una salsa particolare anche per il regista stesso vedergli fare un film del genere secondo me se ci sono dei cambi di registro arrivano direttamente dalla produzione e non dal regista o da Reynolds o dagli sceneggiatori cioè è una richiesta dall'alto se vogliono cambiare il registro non mi preoccupa Levy Reynolds e Levy hanno un biglietto da visita convincente per convincere la Disney ad andare avanti secondo quelle regole gli incassi dei primi due vi assicuriamo che togliete questi elementi uno due tre dal film e questi incassi si dimezzano cosa volete fare poi lo fanno uguale ok lo facciamo così ve l'avevamo detto coglioni poi magari incassa un miliardo e mezzo uguale come si venderebbe questo film come si venderebbe nel caso come vendono tutta la Marvel ultimamente si vende da sé sì però io penso che anche più giovani non mi immagino un bambino che è abituato a vedere i film Marvel e pensi anche voglio vedere quelli che ci sono prima io Paolo io conosco genitori che a dieci anni fanno vedere i primi due Deadpool ai bimbi sali voi noi siamo bastardi non è così io vi posso assicurare per i tempi che corrono faccio un azzardo su dieci bambini sotto i quattordici anni in sei Deadpool uno e due l'hanno visto ma va bene anche così cioè alla fine anch'io se avessi 10 anni io a quell'età guardavo Pierino lo capisco però le persone però penso anche più giovani cioè come lo vendi perché tu lo puoi vendere come un film per tutti ma è comunque un terzo capitolo sarebbe diverso se fosse un reboot ma questo è un terzo capitolo quindi secondo me invece sarà un bel riputino vedrai ripeto ragazzi un altro violenza battutacce metacinema col metacinema fai un intro che è dedicata puramente sfonda la quarta parete tre minuti sfondi la quarta parete guarda questi bastardi non posso più fare questo questo e quest'altro ma vabbè andiamo che poi già lo farà Jennifer Walters in She-Walk quest'anno che parlerà di dico una cosa che non capisco minimamente quindi andiamo Deadpool non è già più un personaggio speciale perché ci faranno vedere She-Walk che sfonda la quarta parete quindi Deadpool ha già perso lui è arrivata prima la forza di Deadpool io ancora non riesco a considerarlo facente parte dell'MCU comunque poi vedremo se sarà davvero così non riesco a crederci neanch'io intanto saluto Scream che deve andare ciao Scream vi saluto subito rispondo anche velocemente a una persona in la chat avevi ragione sono due persone differenti Ermonnezza e Nico Girardi sono due personaggi differenti ho fatto un po' di confusione detto questo per me il quizone no richiedo il ricontenso problemica brogli ciao ciao buon proseguimento ragazzuoli ciao intanto non voglio riguardare l'argomento della vostra live di domani ma per tutti gli scettici sul successo dei film di Reeves stasera Batman ha superato i 460 milioni al box office mondiale in due settimane io pensavo fossero solo le pre-vendite quelle della prima settimana vabbè comunque no alcuni commenti io in settimana ho letto di tutto da parte della chat ma a quanto pare invece sta andando bene orbe orbe allora visto che una puntata è un po' così ci stiamo divertendo belli spensierati belli sperimentali io farei subito l'angolino dell'autopromozione e poi leggerai un sacco di domande un sacco vai parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap state apprezzando questo episodio di facce di nerd così in formato domenicale e poi commentate perché appunto voglio dare un bel po' di spazio oggi ovviamente però la priorità viene data a chi utilizza la super chat e ancora maggior priorità viene data agli abbonati che venerdì non hanno avuto modo di farsi sentire chi si abbona al canale infatti ottiene tanti premi, tante ricompense le domande prioritarie l'occasione di assistere ogni settimana a due puntate speciali dello show della durata di un'ora in cui ci intratteniamo tutti nudi e poi gli abbonati di livello più alto possono anche diventare ospiti dello show anche in questo caso i nudi tra i nudisti e poi c'è il sito Pampling che ogni giorno vi presenta tante magliette con stampe nerd e con il codice Intima8 inserito opportunamente in fase d'acquisto vi portate a casa un compaio di calze gratis sempre con stampe nerd, attenzione non sono le calze della nonna che anche quelle vanno bene comunque, però qui fate gli stilosi ci sono anche quelle di Deadpool tra l'altro, quindi se volete proprio far innamorare di voi chiunque le calze di Pampling in omaggio benissimo io ascolterei proprio i quesiti degli abbonati vediamo se oggi si sono fatti sentire anche questo orario un po' strano di certo sono arrivate delle domande scritte prima ho visto e qualcosa c'è qualcosa, sì ci sono ci sono, ci sono iniziamo con Aristide eccolo buonasera buonasera di nerd sono usciti due film questo venerdì uno che non sono riuscito a guardare che è Red che vedrò prossimamente è The Adam Project su Netflix The Adam Project è veramente ma veramente brutto ma il punto non è che il film è veramente brutto il punto è è quel grandissimo faccia da schiaffi di Ryan Reynolds il quale riesce con la sua faccia con il suo essere così simpaticamente canaglione simpatico come dico io a rendere brutti belli anche i film brutti infatti come anche Red Notice che era veramente osceno pure questo qui riesce a risultare digeribile per la sua presenza vuole sapere se voi il film l'avete visto se mi vado a fare le due parole o se non mi interessa guardarlo grazie e buona sabato qui qualcuno l'ha già visto io no neanche Red sono riuscito a vedere io vedrò la sera Red dopo scena e Adam Project in settimana io Red l'ho visto un'oretta fa e Adam Project l'ho già visto due volte praticamente ah 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 quindi posso dire che senza fare spoiler il film tratta dei viaggi nel tempo ma la particolarità di questo film è parlare di sentimenti umani al cento per cento e basta e quindi credo che sia una pellicola forse inferiore per intenti rispetto a Free Guy ma allo stesso tempo molto più potente dal punto di vista emotivo per quel che mi riguarda e quindi ho adorato sia The Adam Project e soprattutto anche Red molto coraggioso molto divertente e mi dispiace che non a me mi dispiace per Aristide Massacesi che non l'ha apprezzato però ecco no io devo dire che secondo me dopo Free Guy Sean Levy si dimostra nuovamente specialmente con Ryan Reynolds capace di creare queste commedie che abbiano la fantascienza come assoluta protagonista ma come diceva Filippo con dei risvolti agrodolci anche emozionanti certo se vi aspettate un qualcosa di originale no però è un film che prende tantissimo specialmente dal cinema anni 80 di fantascienza io che sono cresciuto con Navigator è uno dei primi film che ci ho rivisto però riesce ad avere una propria identità non è la classica copia carbone poi ci sono tante di quelle citazioni da Star Wars Avengers Endgame insomma guardate un po' voi e fidatevi non è un capolavoro però per passare una serata è molto carico davvero io sono molto curioso di vederlo è anche vero che nelle ultime ore almeno sul mio feed quindi di persone discutibili di Facebook ho visto molti lamentarsi al contrario che si è pieno di sentimenti ma a un certo punto esagera anche un po' nello zuccheroso quindi non lo so in settimana lo vedrò sono molto molto curioso di vederlo il trailer mi aveva incuriosito faccio un piccolo coming out mi sta simpatico ma a me Ryan Reynolds non mi ha fatto né caldo né freddo al cinema cioè lo guardo lo subisco però boh a me sta simpatico forse Frigai mi ha fatto fare un passettino in più ad apprezzarlo però non è quell'attore che mi smuove il film Frigai è superiore per me ad Adam Project comunque ebbè Frigai è fantastico bene abbiamo la seconda domanda di Aristide chissà se dividerà ancora una volta i nostri ospiti che gli andranno contro con i forconi non è vero ti vuole bene Aristide lo sai restando in tema hanno scelto il regista per Deadpool 3 ed è Action Levi cioè il che è un regista di commedia perché ha diretto appunto questi due film ha diretto Real Steel con Hugh Jackman e il regista dei film della notte al museo questo secondo voi vuol dire che la Disney sta avvirando a realizzare un film che sia più verso abbiamo già risposto in sostanza abbiamo fatto sì esatto è una bella risposta uno di Miller che aveva fatto anche l'operazione ma principalmente Deadpool 2 che era diretto da uno dei due registri di Joe Wick secondo me è dei due è il migliore vorrei avere una vostra opinione a me Sean Levi come regista non dispiace ma non ce l'avete analizzare un film d'azione che sia virato a oggetta violenza anche sul reale come erano appunto i due film di Deadpool grazie a voi buona serata appunto abbiamo già analizzato posso fare una battuta a un passant ricordiamoci che uno un regista che tutti noi stimiamo James Gunn nel corso della carriera passa dalla troma a scrivere i film di Scooby-Doo a fare il remake dell'albero dei morti viventi a fare i guardiani della galassia a fare suicide squad cioè collegare un regista necessariamente un genere lascia anche un po' il tempo che trova io stavo dicendo una cosa molto simile facendo un esempio di altro genere dicendo che abbiamo detto tante cose però appunto non incastriamo gli artisti alla loro prima fase di carriera ricordiamoci che William Peter Blatty lo scrittore americano non molti lo sanno era nato come autore comico comico sì 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 prima di pubblicare l'esorcista esatto bene bene ma passiamo a Nightmare Before Pasquetta la nostra gola profonda prego capirete il motivo tra poco buonasera a Mattia e a tutto il cast la prima non è una domanda ma un indovinello per restare in tema fingete di avere una bomba legata al collo e se non rispondete correttamente morite chi è quel personaggio orfano doppiato in italiano da Stefano Crescentini che ha un'intelligenza straordinaria e spiccate abilità deduttive è giovane e ha un aspetto un po' pallido i capelli trasandati collabora con la polizia anche se per loro è un po' folle ed eccentrico e deve scovare un serial killer che uccide sotto pseudonimo il serial killer ha la faccia da bravo ragazzo i capelli non cortissimi castano chiaro rossicci ha un anziano maggiordomo che lo assiste nel risolvere il caso e ovviamente ha un'identità segreta insomma chi è costui metti in pausa ora così da permettermi di dare la soluzione dopo le vostre risposte Ben Affleck super noi un attimo io vi vedo che tutti siete lì a cercarlo su internet tanto eh? eh? sì è cosa è? secondo me non è mica L di Death Note penso di sì era doppiato da quei centini non l'ho mai visto l'anime in italiano quindi quindi non lo so però la descrizione corrispondeva e io ho detto non te l'ho visto soprattutto quando ha parlato del serial killer ah serial killer che è che è molto elegante oggi non riesco a dire le parole in inglese che è molto faccia da bravo ragazzo ma sentiamo la risposta volete farvi avanti sto guardando la sua pagina Wikipedia per vedere se qualcosa corrisponde però c'è una sorpresa magari c'è un twist magari non è nessuno tempo sprecato esplode la bocca vabbè sentiamo che paura mi sento l'ansia sul ma poi attenzione perché c'è l'anime c'è anche il film di Death Note quindi lui magari ha giocato anche su questa doppia corrispondenza quindi io continuo ad andare lì per me è L ma sentiamo è Batman ovviamente sto citando L di Death Note ti è era la mia seconda ipotesi voi siete esplosi esatto io sono sopravviso molto bene molto bene detto questo ragazzi io vi saluto che devo uscire a cena è stato un piacere ci vediamo alla prossima ciao 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 vi ricordate attenti alle dighe possono esplodere nei momenti più inaspettati è vero è vero è vero ciao ciao ma sentiamo la seconda domanda ok ora la domanda vera e propria vi piacerebbe un sequel di Batman che segue la dinamica di Death Note Batman che collabora con il villain il pubblico sa che lui è colpevole ma Batman no Batman deve trovare le prove per incastrarlo e il villain invece che il vero nome di L deve scoprire la vera identità di Batman un duello di menti sotterfugi e inganni vi piacerebbe o come vi immaginate un sequel grazie per la risposta e grazie anche per la puntata qualsiasi cosa che coinvolga investigazioni e thriller psicologico a me va bene in questa dimensione sì senz'altro però non mi sembra che sarebbe esattamente la modalità di un racconto di Batman quello è vero quello è vero e più Daneta Colombo anche perché purtroppo per fortuna i cattivi di Batman sono tutti notissimi però tranne quando gli fai il hood unit vero vero poi lui suggerisce il gioco noi spettatori sappiamo Batman no quindi magari introduci una Pamela Eisley conturbante femme fatale noi sappiamo che questa probabilmente è la killer di turno ma Batman no potresti però potresti però fare certo non proprio con un villain potresti mettere Superman all'interno del film lo fai indagare sul perché Batman si comporti in una certa maniera Batman crede che Superman sia portatore di sventura li fa indagare però noi sappiamo che in realtà Superman è buono e Batman anche e poi li fai cartellare no grazie Filippo no mi sembra un'ottima idea no grazie che vedrai volentieri poi abbiamo la domanda di Mr. Blake eccola ciao buona serata a tutti ciao allora voglio farvi una domanda ovviamente su The Batman sul personaggio di Carmine Falcone interpretato da John Torturlo che penso abbia fatto un'interpretazione fantastica adoro quest'attore specialmente nelle parti dove diciamo hanno un ruolo secondario ad esempio dal giocatore al colore dei soldi nel grande boschi davvero riesce a caratterizzare il suo personaggio in un modo fantastico quindi vi chiedo un parere su questo grande attore e anche sulla Batmobile che penso sia stata davvero fantastica con il suono della macchina è stato davvero qualcosa che gasava un botto quindi vi chiedo anche cosa pensate sul secondo film l'evoluzione sulla Batmobile ciao sono due domande in una quindi iniziamo da il buon oddio c'ho l'apsus Falcone e quindi Turturro eccoci che si deve dire un grande confermiamo tutto quello che ha detto lui io il mio amico Guglielmo Favilla ci ha lavorato insieme sulla serie tv Rai HBO del nome della Rosa è detto che è anche una persona fantastica umilissima sempre che parla con gli altri attori anche quelli secondari dà consigli tira sul morale ha voluto festeggiare il compleanno sul set invitare tutti ha detto è gentilissimo e visto che lo citiamo per il grande attore che è è il momento della divulgazione è protagonista di una delle commedie più divertenti di inizio anni 90 che in pochi conoscono perché è una vita che non è distribuito io ho sempre la VHS e poi l'ho ottenuto secondo modalità di dubbia creativa esatto grazie Filippo è un omaggio ai fratelli Marx è una notte all'opera si chiama Gli Sgangheroni è una commedia proprio slapstick pura ed ha anche nel suo punto di forza un doppiaggio italiano di quelli dell'epoca che erano delle genialità di adattamento fantastiche se lo trovate recuperatelo perché è un capolavoro di comicità nonsense tipo una pallottola spuntata è di quell'epoca lì ed è fantastico e poi cosa fa fa è bravissimo ma sono contento perché era tanto tempo che non partecipavano a un progetto di prima fascia così grande quindi probabilmente dai Transformers ora così è vero è vero è vero è vero è vero è un grande va bene io saluto anche Filippo sapevamo che oggi ci sarebbe stato il fuggifuggio a un certo punto comunque l'esperimento direi che ampiamente è riuscito mi lascio sì è vero è vero ne siamo emersi ne siamo emersi vittoriosi bene ciao Filippo ciao ciao Filippo quindi alla fine era veramente il microfono può darsi può darsi può darsi è nuovo un microfono sì 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 è nuovo è nuovo guardate questo colorito blu cobalto perché picchi di stile e sulla Batmobile vi dico a me la Batmobile cioè per quanto non si veda così tanto è comunque intrigante ecco poi magari potrà avere un ruolo maggiore nei futuri film non è la mia preferita non è la mia preferita ancora però no 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 io non le davo due lire a me piace come il resto della tecnologia di Batman il fatto che non abbia un ruolo che non sia quello che debba avere la Batmobile spaccare i culi per inseguire inseguire esatto cioè scusate non è una questione di design non è una questione di figaggine è una macchina in grado di spondare i rotoloni di cemento come cavolo si chiamano mentre va a 200 all'ora e andare dritto verso l'obiettivo è quello che funziona nell'approccio di questo Batman fine è quella è una macchina spacca culo e basta infatti scusate la sovranalisi forse sono io che poi esagero ma la questione non è tanto è che io concepivo la Batmobile in un certo modo prima dell'approccio di Reeves a questo film cos'era? era molto semplice quando poi la vedevo dicevo ma sai Batmobile un attimo non mi convinceva ma poi il film vuoi per gli espedienti di regia vuoi per tutto l'inseguimento vuoi per quello che vuoi io sono arrivato alla fine con il pinguino cappottato che ero in estasi pure con quella Batmobile quindi il merito va a Reeves che ha messo le telecamere in quell'inseguimento ovunque veramente ovunque pure nelle marmitte e niente appena è arrivata dal nulla si è accesa lui è partito e io ho pensato ma sembra una nave spaziale era una macchina di torre porca vacca no infatti io non le davo due lire anzi quando l'ho vista la prima volta ho pensato ma ma e invece mi ha fatto innamorare anzi avrei voluto vederla di più ancora di più e spero non la cambino troppo nel secondo allora sicuramente solo per vendere le action figure qualche cambiamento lo daranno sia alla Batmobile che al costume di Batman ma a me questo costume piace tantissimo tantissimo e per rispondere ad alcune domande su Instagram ho ricordato quello di Affleck e il confronto in generoso ho proprio capito perché non avevano mai fatto la tutona prima di Affleck e il motivo c'era fa cagare la tutona sullo schermo mi spiace Batman funziona quando ha una corazza molto che gli dà l'idea di essere agile capace di muoversi una volta visivamente è bello il costume di Affleck però non è credibile per il ruolo ma anche l'elmo con le orecchie più lunghe rispetto a quelle tozzine diciamo che visivamente colpisce però praticamente non è pratico sì esatto esatto mi è piaciuto tutto a livello estetico poi la domanda di chi è costui Giuseppe Rinaldi ha un nuovo ingresso una new entry mi raccomando vabbè dura un minuto e dodici secondi la prossima volta massimo un minuto grazie però una new entry prego salve a tutti della live primo audio da abbonato rivolgo la domanda a chi è già visto più volte il film The Batman quali sono i dettagli del film che un po' vi hanno fatto stoccere il naso io personalmente ho adorato la pellicola ma ci sono alcune cose che stonano per esempio l'incidente del pinguino l'unico con l'auto più moderna del film e non esplode neanche un airbag mi sembra strano poi il problema del doppiaggio con gli enigmi personalmente è un vero peccato sicuramente in lingua originale rende molto di più infatti guarda faccio un piccolo inciso va bene che ovviamente il doppiaggio da noi è un'arte risaputa ma mi fa abbastanza sorridere chi giudica gli enigmi del film basandosi sulla visione in italiano mi fa abbastanza sorridere perché ovvio che facciano cagare ovvio no bisogna fare un adattamento molto creativo giace continuamente è una roba terribile però siccome a tempo perso io traduco fumetti era impossibile da tradurre con un senso logico dovevi dovevi stravolgere e anzi c'è una sottigliezza ovvero giace continuamente che vuol dire che giace per sempre ma anche continuamente continuo a mentire che per quanto orribile sia forzata di vista di forma era l'unica e geniale possibilità di adattarla è chiaro che quando l'ascolti fai no cazzo no allora intanto devo fare gli applausi complimenti complimenti per la citazione raffinata però anche la questione di url che era l'url del sito in italiano non rende quanto rendi in inglese cioè che poi non siano piaciuti ci può stare però vedo alcuni in caponirsi in ogni enigmi banali facili che cazzo dovevano fare c'è l'enigmista è basato su giochi di parole non ha mai tirato in ballo delle cose incredibili però vabbè per quanto riguarda l'airbag ora mi rendo conto che sia un film con i piedi abbastanza saldi sulla terra della plausibilità però chi se ne frega vi posso dire una cosa anzi io lì più che altro penso cazzo altro che airbag lì va bene può anche sopravvivere il pinguino ma ne esce con qualcosa di rotto sicuro io queste cose me le spiego ovviamente per il metacinematografico perché la bellezza di una scena il fatto di vedere Batman che si china e lui terrorizzato immaginatevi che Batman che si china e lui che fa così perché gli esplosano l'airbag non lo riesce a guardare ovvio che no infatti per dar l'impatto ma va avanti un Batman che sembra davvero antiproiettili mi ha ricordato tantissimo The Book of Boba Fett l'ultimo episodio poi ci sono le borse portagatto della moto di Selina le scene del volo di Batman quando scappa dalla centrale secondo me è un po' inutile si induge troppo sul volto di Pattinson forse infine il cambio d'abito di Batman per tornare a casa di Catwoman dopo la scena della la casa del sindaco quando tornano da casa del sindaco cosa ne pensate un saluto a tutti non ho capito l'ultimo si sta anche parlando però di una serie di scene di raccordo che sono veramente dei dettagli di secondi si mi sembrano un po' le approssimazioni necessarie per far andare avanti velocemente per esempio la scena della tutelare io l'ho apprezzata invece anche quell'inquadratura un po' particolare con il viso in primo piano con la prospettiva sul corpo perché a me sembra abbastanza palese che se non è la prima volta che la usa è la seconda che la usi molto malvolentieri e che si stia cacando sotto quindi anche lo stare così vicino a Batman e far vedere anche l'incapacità di gestire il momento a un certo punto plana di lato perché sta per andare in una vetrata di un palazzo fondamentalmente secondo me è funzionale poi io l'ho detto l'unica cosa a rivederlo alla quarta volta che stona un po' è quella telefonata dell'enigmista che inizia mentre è sempre in chiesa però ripeto vogliamo riparlare del nonsense nel capolavoro assoluto sì non so allora poi sono anche critiche legittime però ho visto molti andare proprio con le pinzettine su sto film e poi quando io criticavo No Way Home non ho bellissimo l'emozione cioè ragazzi vedendo vedendo i film ma limitiamoci anche al genere quindi thriller noir se le analizzate tutti con sto piglio non ne promuovete mezzo vogliamo parlare delle forzature di Seven ma poi è il solito discorso l'abbiamo detto un film come The Dark Knight è pieno di questa roba ed è comunque un film incredibile è una questione di punti di vista purtroppo si sa che ogni tanto ora non è questo il caso ci mancherebbe un meme su una scena che contiene una stranzata nella mente dell'appassionato che vive il cinema su internet quasi si sostituisce al film anche se è bellissimo purtroppo è una questione di percezione ripeto cioè il canale Everything Wrong With campa queste cose nei film a un certo punto è divertente se dovessimo giudicare così i film addio poi ripeto c'è sempre differenza tra c'è sempre differenza tra una forzatura e l'altra non bisogna fare di tutta l'erba un fascio perché una forzatura che puoi trovare in un The Dark Knight non è la stessa che trovi in un film scritto male veramente perché cioè nel senso ne abbiamo parlato poi nell'approfondimento però se ci facciamo caso anche quando ne ho parlato ultimamente con il carissimo Adriano collezionista di ombre proprio di The Dark Knight su Whatsapp e quando si parlava del vi ricordate nella nostra retrospettiva parlavamo del furgone che esce all'inizio si mette insieme agli altri e nessuno dice niente dopo la rapina del Joker anche lui mi ha detto però quanto è importante quella scena perché è un film che riflette sulla corruzione di Gotham dove la gente vede sta zitta e si fa andare bene tutto quindi sì se guardiamo lì con la lente di ingrandimento può essere una forzatura ma che rende ancora più valido il concetto che il film vuole esprimere quindi c'è sempre diversità anche tra forzatura e forzatura e anche in The Batman di Matt Reeves per me queste sono proprio piccolezze cioè i film veramente scritti male sono altri anche secondo me e poi allora mi sto trattenendo su una cosa perché c'è già la domanda dopo ho già letto le super chat però se vogliamo trovare cioè immaginiamoci in un'ipotetica retrospettiva se io dovessi trovare delle cose che non vanno poi sono quelle che invece si attaccano a queste cosettine qua non dico l'utente ma hanno letto veramente di ogni in questi giorni e poi ad esempio per me fa un po' strano che la risoluzione finale arrivi perché parla al poliziotto oppure come ha detto Michele la telefonata provvidenziale cioè sono quelle cose lì che sono un po' delle facilonerie per mandare avanti il plot se qualcuno mi dice per me stringi stringi è un po' troppo semplice la costruzione narrativa ci posso stare però e non esplode l'airbag e la bomba in faccia non è ferito e il pugno a gordo non arriva con livido ho capito ragazzi però c'è altro qui direi direi secondo me secondo me però mi rendo conto che ricordiamoci ricordiamoci che nota sitcom sottolinea come Indiana Jones non faccia niente di utile al finale di Predatori dell'Arca perduta questo non esclude il fatto che è un capolavoro uguale cioè ci sono questi giochini di dialettica e di nonsense legati anche ai più grandi film viviamoli per quello che sono dei giochini di dialettica ecco non per questo il film ne risente no infatti allora Argo4Fox prima è contento di faccia di nerdi domenica che fa dimenticare che domani è lunedì e invece e poi ci domanda come vedremmo come vedremmo nel Batverse Hugo Strange abbastanza bene bello bello Hugo Strange sì vero Paolo lo vedrei magari come forse addirittura direttore di Arkham eh che bello 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 sì 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 anche e poi mi ricollego alla domanda di Nightmare Before Pasquetta il cattivo che vuole scoprire l'identità di Batman lui è perfetto perfezione sì perfetto sì 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 poi Sean ma grazie a questo film Paul Dano beneficerà dell'effetto Adam Driver post episodio 7 lanciando così la propria carriera no anche perché vi vi rivelo una cosa Paul Dano innanzitutto non ha bisogno di lanciare una carriera che va avanti quasi da vent'anni è un attore già stimatissimo e che soprattutto se lo si conosce eh da anni lavora anche come sceneggiatore come regista il suo primo film da regista mi sembra sia disponibile su Netflix scritto da sua moglie che è Zoe Kazan bravissima attrice eh è un attore che da anni ha deciso di fare una carriera indie come si dice in America quindi film a basso budget eh più d'autore poi è chiaro ogni tanto ti si presenta un'occasione del genere che fai non stacchi un assegno lavorando a un grande film con un bravo regista con un personaggio del genere ci mancherebbe vi ricordo che nel 2008 era coprotagonista del petroliere accanto a Daniel De Luce De Luce in un doppio ruolo di due gemelli e spaccava già i culi cioè non è l'ultimo arrivato Paul Dano magari è meno conosciuto della media di attori hollywoodiani magari gli aprirà delle porte ma la sua carriera sono vent'anni che va avanti più o meno quindi viva Paul Dano non ha bisogno allora lo vedremo nel sequel ma io rispondo no per due motivi collegati il primo è che smascherato si vede pochissimo vero vero il secondo è che secondo me quando pensi al film ed è la prima volta che succede ti viene in mente Batman Robert Pattinson il cattivo è il secondo piano quindi tu emergi dalla visione pensando cazzo però Pattinson poi noi ovviamente siamo appassionati ci soffermiamo Paul Dano bravo ma secondo me il grande pubblico non uscirà dalla sala dicendo però quello che fa l'enigmista oh bravo penseranno il film se lo tira tutto Pattinson assolutamente in maniera proprio spontanea tranquilla senza sforzo è stato bravissimo poi Francesco Gervasi ci segnala una notizia di cui forse parleremo domani allo show caro signor F ovvero Michael Giacchino dirigerà lo speciale per l'MCU Werewolf by Night siete curiosi di vedere il compositore mettersi alla prova come regista speriamo se la cavi allo stesso modo moltissimo secondo voi questo progetto sarà in qualche modo connesso a Moon Knight io dico sì al 99% a voglia guardate Filippo F guardate Filippo F che fa il guascone guardate anche me un motivo semplicissimo Moon Knight ha esordito nella testata Werewolf by Night più di così i vampiri comunque anche ora vado di là e abbraccio il mio omnibus di Lecantropus no e poi Fai attentissimo a queste cose anche perché negli ultimi giorni si parla di presenza di Mark Raffalo in Moon Knight come Bruce Banner Hulk e anche lì perché perché Moon Knight per lungo tempo è stata la storia secondaria della testata su Hulk vero e quindi Fai si fa le pippe su ste robe qua io me lo aspetto al 100% Moon Knight in Werewolf by Night e poi c'è sempre di mezzo la luna dopo tutto è vero è vero è certo 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 poi McLovin chi scegliereste per interpretare due facce dipende quanto deve essere giovane perché un nuovo procuratore diciamo che è sui 40 anni a me venuti in mente così su dei piedi Matthew McConaughey a me Josh Brolin no Josh Brolin non ce lo vedo Mizzica pensalo in Milk quando fai il politico stronzo bello Brolin mi piace anche John M mi piace tantissimo John M John M mi piace su Matthew McConaughey lo sai su Matthew McConaughey mi hai messo una bella pulce caspita sono tutti belli mi sono tutte proposte belle invece se fosse uno un pochino più giovane magari nei 30 ci sto pensando un attimo sto facendo il podcast ah ok stavi ragionando si 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 non male beh ho già tirato fuori tre John M è tanta roba perché poi si somigliano come tipo con Josh Brolin anche che uomo bello guardate Madman amate Madman amate John M che uomo che secondo me avrebbe dovuto interpretare Negan era uguale cioè è proprio identico io mi ricordo che quando parlavano del nuovo Superman di per Man of Steel sarà un casting preso dalla tv e non ci arriverete mai speriamoci sarebbe stato un Batman bellissimo come Batman come Superman scusami un Superman un po' più old style sai Superman no perché era troppo vecchio come Bruce Wayne guarda vabbè 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 Aaron Cole per un Harvey Dent più giovane difficile vabbè poi 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 le super chat si robì aveva dato un contributo per il microfono grazie Mattia mi omonimo mi omonimo quale personaggio per te era un buco di trama ecco mi sono tenuto la risposta fino adesso non è un buco di trama secondo me hanno tagliato delle sequenze ad inizio film muore il commissario Michele Innocenti divorato dai topi ne mettono un altro in carica questo tizio con i baffoni che si vede nella scena della chiesa e poi in quella del commissariato e affronta Batman a muso duro e quando poi lui scappa dalla centrale e va lì a fianco al batsegnale con Gordon Gordon dice che questo commissario chiamiamolo così ha emesso un mandato di cattura nei confronti dell'uomo pipistrello la cosa non avrà la benché minima conseguenza e quel personaggio lì sparirà cioè anche quando andranno ad arrestare Falcone non c'è non si vede mai più dà l'idea di essere tagliata hanno tagliato non c'è sono convinto al cento per cento non c'è non c'è secondo me lo facevano fuori in qualche modo in quell'ora lì tagliata ci sta sono abbastanza convinto poi non è un grande problema si può dire che comunque quando capiscono che Batman ha scoperchiato l'impero di Falcone gli diano il bonus lascia passare va bene si si dice che c'è un mandato Oscar ho visto il film tre volte si si io quattro si si lo dice prima cosa che gli dice Gordon c'è un mandato di cattura per te non è il personaggio che Catwoman anche perché è scappato dalla centrale mentre era in custodia della polizia insomma ragazzi non è il personaggio che Catwoman prova ad uccidere quello è il tizio col naso fratturato perché Batman gli lancia il fucile in testa è quello che fa il butta fuori all'iceberg lounge esatto non confondetevi sono due personaggi separati quindi quella è una sottotrama che non ha conseguenze però è più facile criticare la bomba poi mister lollo ti ringrazio anche se non c'è la domanda magari era una donazione così Riccardo Micelli miglior cameo di Stan Lee io lo dico al volo vai Michele non perché sia il più bello ma perché è l'in joke più divertente quello in Captain Marvel in cui legge Mo Rats di Kevin Smith in cui recita nel mondo reale sull'autobus è quello più diciamo autoreferenziale divertente e poi Hugh Hefner in Iron Man perché io per me il migliore proprio per il simbolismo è quello nel primo Avengers quando dopo che ti hanno tirato fuori un film che sembrava impensabile e adesso la gente non se la ricorda sta roba we don't know Stan Lee dice supereroe New York ma per piacere quello per me è il migliore è il migliore è bellino anche il dialogo di Spider-Man stiamo dicendo non in generale nei film Marvel sì in generale in generale in generale io adoro si intende miglior cameo quindi a me piace anche con il Thor quando cerca di togliere il martello alla fossa con il fuoristrada però anche Spider-Man 2 sì Spider-Man 2 è bello perché dà un consiglio direttamente alla sua creatura nel 3 era il 3 è vero però nel 2 c'è solo lui che salva una è vero perché era la scena delle chiavi infatti è quello il mio cameo preferito era la scena delle chiavi della città Spider-Man 3 vero giusto bene bene abbiamo tempo di leggere qualche domanda della chat quindi fatevi sotto noi andiamo avanti fin quando proprio ci sarà un limite ovviamente però voglio rispondere a un bel po' di domande dai 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 il tizio nel finale che risponde vendetta lo stesso uomo clochard che al funerale ha parlato con Bruce c'è chi si è convinto di sì io non lo riconosco per niente io ce l'avevo scato perché hanno delineamenti simili ma è stato confermato anche con i nomi degli attori che non sono non è lo stesso e quando l'ho detto io che non me ne ero accorto ma tu sei pazzo pur di criticarmi io 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 sempre io ho sempre creduto di essere un cretino perché l'ho visto tre volte e tre volte ho detto ma secondo me non ci assomiglia a parte che è tutto scocciato alla fine c'ha il naso così però boh secondo me no secondo me no però non lo so mistero poi 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 attendete licorice pizza siete curiosi posso rispondere con una domanda una domanda ti serve l'ossigeno per respirare wow wow ragazzi Thomas Anderson sento sento il mio piccolo ritorno audio non so perché adesso è andato via però ogni tanto lo è da Boogie Nights ho visto Boogie Nights quando avevo 13 anni sempre per visioni premature caro signore un'ultima domanda e poi vi salvo va bene allora andiamo verso la chiusura arriviamo alle due ore dai almeno almeno va bene ma sì dai 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 mancano cinque minuti allora domani nello show parlerete del teaser di The Boys assolutamente sì però sappiate lo dico per farmi odiare che non l'ho ancora visto perché non me ne potrebbe fregar di meno ma siccome so che è molto richiesto la terza puntata della prima stagione ho detto no grazie pensa che la prima stagione è quella bella secondo me la seconda però ho già visto che finalmente finalmente hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare alla terza puntata della prima stagione lì dove si è fermato Michele ovvero dare i poteri a sti cazzo di protagonisti complimenti anche se aspetta dirlo aspetta dirlo perché ce ne sarà uno che avrà un potere un po' particolare vediamo però cazzo alleluia perché se un'altra stagione di loro che girano in tondo senza poter far nulla ed è il motivo per cui non ho visto il trailer perché un attimo un po' cioè non l'aspettavo The Boys però magari mettiamo un po' di pepe avete letto di Florence Pugh e Austin Butler in Dune Part 2? yes ma sono ancora sono trattative sì però sono trattative avanzatissime ma ci stanno ma ci stanno entrambi possiamo darli per assodati allora vabbè Florence Pugh ci sta Austin Butler sono contento perché a quanto pare ha imparato a recitare se lo vedete in sciannare in lingua inglese è un cane orribile dai io non vedo l'ora di vedere Elvis che adoro ma Shalamet sarà pure nel secondo giusto? eh sì 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 povero poi non spammate le domande se no non vi leggo io ho capito che sono uguale a Edoardo Pesce lo prendo come un complimento grazie anche come anche al nano del Signore degli Anelli quindi i progetti sono due quest'anno per Michele oh sì sì allora Robert Downey Jr due facce no no sarebbe un in joke continuo è diventato due facce no grazie no facciamo facciamo di no andrete al cinema a vedere il terzo Animali Fantastici sì le vostre aspettative sono basse come le mie sì le mie anche peggio ci dovremmo andare ma io credo che faranno stracagare però dai magari ci sorprendono voglio voglio crederci è che a me non piace proprio l'impostazione stilistica tutto grigio non ce la faccio io non riesco a ritrovare i personaggi è come dire avevate hype per episodio 9 è uguale ma Fassbender come i precedenti sì 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 Fassbender mi piace mi piace a tutto punto no perché Fassbender a parte tre o quattro cose lo trovo costantemente sopra le righe soprattutto in quel tipo di ruoli lì ho dei problemi con Fassbender tra l'altro uno degli uomini che aveva una delle carriere più promettenti di Hollywood che anno dopo anno ha trovato la maniera di distruggersi da solo come un pazzo letteralmente è scomparso adesso se fai film di merda dopo film di merda poi dicevo che c'era una domandina molto bella come pensate che non è questa però anche codesta è interessante come pensate gestiranno il fatto che Obi-Wan riesca a nascondersi per 19 anni anche se gli mandano apposta agli inquisitori su Tatooine li ammazza fine il dottor il dottor Matioschi è una persona molto pragmatica si direttamente li ammazza ci sono quattro inquisitori nel trailer due poi sappiamo già che sopravvivono perché si ritrovano in Rebels e non credo avranno a che fare direttamente con lui altri due non si vedono più sono morti ragazzi li ammazza nella serie anche per difesa ovviamente non sarà un omicidio sangue freddo per Obi-Wan non lo farebbe ma per difendersi un bello scontro un bel combattimento li ammazza senza il minimo problema pensate invece come giustificheranno uno scontro inevitabile tra Obi-Wan e Vader con poi Vader che dice l'ultima volta tu eri il maestro io l'apprendista l'apprenfava vedi magari Obi-Wan Kenobi indosserà un vestito da predone Tusken per non farsi riconoscere non sentivo questa presenza dall'altro ieri voleva dire quello Vader sentivo questa presenza dall'altro giorno quando ci siamo visti su Tatooine a combattere va bene io ragazzi vi devo salutare davvero ciao Paolo leggiamo l'ultima domanda l'ultima l'ultima perché siamo a cena fuori insieme io e Michele stasera veramente mai nella vita però mai nella vita ok qua rispondo io faremo la rubrica su Halo si inizia venerdì 25 marzo alle 14 con il solito cast delle serie tv quindi Giacomo Debo What's Angel ok quindi ho risposto io saluto gli ospiti a questo punto cominciamo dalla fila bassa che devono scappare saluto Paolo Innocenti per aver partecipato a questa puntata speciale puntata speciale ma sempre bellissima anche di domenica quindi grazie a tutti voi e ci vediamo alla prossima ciao ciao benissimo saluto anche Michele ringrazio anche lui grazie mille ora dovrò combattere con la convinzione biologica del mio corpo e della mia mente che non sia venerdì corro a mangiare perché la mia ragazza mi sta minacciando con lo sguardo e poi vado a vedere Red così poi ne parliamo nei prossimi giorni io ringrazio e saluto il signor F ma io ringrazio voi è stata una bella puntata alla fine è andato tutto bene tutto liscio e mi fa strano anche a me ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta però arriva l'agrodolce l'agrodolce che io finivo con buon weekend e invece domani però almeno ci siamo noi torniamo quindi dai era il microfono di merda benissimo vava che meraviglia caro ciao ragazzuoli un applauso da Andrea Perrone che è arrivato al momento giusto ciao Andrea alla prossima ci vediamo domani alle 14 con il signor F con il Mattioschi Show grazie mille ragazzuoli ciao 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 devo chiudere l'altra